Sai che c'è? Che sono stufo, sono stanco. Sai perché abbiamo delle vite di merda? Perché la nostra scelta comincia quando andiamo a votare. Non c'è nessuno da scegliere. Scegliamo tra due merde. È così da 25 anni. E sai cosa è stupefacente? Non cambierà nulla, nemmeno stavolta. E sai perché? Perché tu, mio padre, io stesso sceglieremo di nuovo una merda. E diremo sì, vabbè, è un po' merda, ma è meno merda degli altri. E lui andrà al potere e comincerà a rubare. Rubare e rubare. Ogni volta cambia solo il nome, ma fanno tutti la stessa cosa. E a nessuno importa. A te non importa, eppure a me non importa. Niente, non ce ne importa un cazzo. Se io potessi andare lì per una settimana, una settimana sola, vi farei vedere. A spazzare via i loro cortigiani, i loro privilegi, le loro auto di lusso. Il presidente dovrebbe vivere esattamente come un insegnante. E ogni insegnante dovrebbe vivere esattamente come il presidente. Con la stessa dignità che ho io. Che insegno la storia, ma della storia, non gliene frega un cazzo a nessuno.